buongiorno e bentornati ragazzi oggi siamo come potete vederla dietro in valle tanaro le cui onde mi hanno cullato nel sonno oggi andremo verso il cima delle saline e il monte mongioie partendo da carnino quindi si va a presto Passo delle saline e lassù, cima delle saline. E all'improvviso, tundra. Madonna che bello! Sìììììììììììì! E' testino beccare nuvole in cima. Monte Mon Gioie! incarto 2600 e pussa metri almeno da questa parte c'è il panorama sono molto soddisfatto nei miei 1800 metri di slivello e allora adesso le intenzioni sarebbero di fare un sentiero che scende dall'altra parte dove sono salito per fare un bel anello e scendere a rifugio mongioie solo che devo individuare un sentiero perché non so se si può notare però è una crestina non so lì c'è una madonna una statua andrò a vederla dove guidare il sentiero insomma dolomiti eccoci qua sono appena passato la rifugio mongioie e adesso sono ripartito prendendo il sentiero delle vene del tanero per tornare a carmino quindi c'è scritto un'oretta ma di solito ci metto un po meno speriamo perché non ho più voglia di farti slivello ragazzi il ponte non c'è più non è percorribile quindi bisogna fare la deviazione che passa là sopra signori direi che il video può concludersi qua sono quasi tornato a carnino e vi lascio qua un po' tutte le statistiche della giornata e che dire ci vediamo la prossima gita ora vi lascio con questo percorsino bello estetiche bellino bellino così da far finire il video ciao